Leandro Limozza, segue Stefano Canzelli. Ma intanto grazie Gianni perché contribuisce con forza ad esistere chi viene prima di resistere. Ma di ripensare alla sinistra, nel PD e nel Paese, io credo che abbiamo bisogno per davvero tutti, ma proprio tutti, di fermarci, di ascoltarci e di guardarci. Mi piacerebbe se in questo cammino facessimo proprio queste due parole. Naba Jotisaika, che in Sudafrica significa io ti rispetto, ti nutro, importa a me. E risposta dicono Midori che così esisto per te. Vedete, non è solo una prospettiva altra della vita, delle relazioni umane, ma è il contrario di una politica fredda ed egoista e di richiamare la politica alla sua più alta responsabilità, alla sua corresponsabilità. Vedete, un illustre pensatore, Reinhard Koslec, ha osservato che oggi viviamo nel futuro passato e appena viviamo un evento è già passato. Il futuro si addossa sul presente e la velocità, turbocomprime il nostro tempo e si deposita nel nostro pensare. Noi siamo narcotizzati dalla velocità che riduce lo spazio dell'esperienza, allunga il tempo dell'attesa e il nostro stesso equilibrio psichico è messo in subbuglio. E la politica addossa il futuro sul presente, eludendo così il campo della prospettiva, operando una innaturale separazione tra governabilità, economia e democrazie che richiedono invece un delicato cammino comune, lo stesso orizzonte così smarrisce il nesso con il suo senso. E quindi di fronte alla complessibilità del mondo si impone il bisogno del pensare, che vuol dire anche la pazienza dei pensieri lunghi, però con la cultura del fare, cioè tempi certi, perché i tempi della politica non possono essere più distanti dai bisogni reali, non devono essere esigiunti dalla dignità delle persone. E voglio toccare solo due questioni. Il primo, il mezzogiorno, è praticamente assente nel dibattito politico-culturale, espunto con fastidio dall'agenda di tutti i governi dell'ultimo ventennio. È diventato una sorta di capro espiatorio, di disagi provocati dalla globalizzazione economica e finanziaria, la palla al piede che impedirebbe al Paese di spiccare il volo. Vedete, questo pregiudizio antimeridionale ha per un verso alimentato le leghe, è una cultura settentrionalista che è largamente premiato sia il centro-destra che il centro-sinistra. E per un altro verso ha determinato nel mezzogiorno la riviviscenza di fenomeni rivendicativi e secessionisti, di matrice conservatrice e neoborbonica, una sorta di rinascita dell'aurismo diffuso. Vedete, il Sud, il nostro meridione, è un'altra cosa, ha altre aspirazioni e bisogni. Ebbene, la terra delle associazioni, che si battono contro le mafie, di giovani che si battono contro la devastazione del territorio, di tanti amministratori, dirigenti politici e sindacali che non abbandonano il campo. È il mezzogiorno che esprime con dignità e orgoglio una quotidiana resistenza contro quel grumo di poteri politico-affaristici che ad esempio hanno permeato la lunga vicenda campana della famiglia Cosentino. È un Sud che non vuole assistenza, ma opportunità e solidarietà per non essere lasciato da solo a combattere come invece da troppo tempo accade. Vedete, in questo senso l'Europa è un'occasione per il mezzogiorno, ma è anche vero il contrario. Perché il pensiero meridiano e mediterraneo può essere una bussola per ripensare la missione, i caratteri di un'Unione Europea che appare priva di anima, sentinella di interessi di pochi, vittima del rigore di un nord del continente miope e conservatrice. E infine, il tema che volevo toccare era quello di una comunità libera dalle mafie. Vedete come ho avuto modo di scrivere, le mafie si sono trasformate ed evolute. La loro presenza non è più solo nei quartieri, ma nei centri finanziari e culturali. La lotta alle mafie oggi deve passare attraverso una strategia economica, culturale, contro i mafiosi della finanza, una battaglia, una lotta più difficile da combattere. Perché si tratta di attrezzare una hegemonia culturale della legalità, una strategia economica, nei processi finanziari e culturali. Insomma, le mafie hanno scelto di diventare società civile diffusa. O si riesce a governare dei lidere, il fenomeno in atto diventa tutto più difficile. Quindi, nello specifico necessita un piano d'azione a livello sociale, locale, regionale, nazionale e europeo, dove sono insediate le mafie. Risorse, strumenti, progetti, sinergie. Ecco, è quindi il tema fondamentale di quale politica, di quali politiche per combattere le mafie e le illegalità. E infine, noi, noi, passare da lì, dall'io al tu. Vedete, io penso che noi dobbiamo saper costruire, è concluso, una casa con tante finestre, con la nostra storia e con quelle di altre culture, percorsi, associazioni, arcipelago del volontariato lago religioso, cittadini e cittadini, che vogliono rifondare la sinistra a partire dalla ricostruzione di una strategia, di una forza di sinistra e socialista che rivia un senso forte alla politica. Però, però, cari amici e compagni, occorre cambiare per davvero stile, grammatica, cultura politica e metodo nel senso della convivialità delle differenze, come diceva Don Tonino Bello, quindi con nuovi linguaggi, progetti concreti, comportamenti essenziali, credibili e coerenze. Come? Lo indicava Gianni, ricostruire una forma partita per radicare il conflitto e nella società. Io penso che, certo, dobbiamo partire dai territori. Tra le prime cose da fare è promuovere un patto federativo, con le associazioni e il volontariato. Anche questo è un modo di non usare solo le parole ma di scrivere le parole stesse. Insomma, è necessario mettere insieme storie e progettualità. O riusciamo ad operare un vero e proprio ribaltamento politico e culturale o non ne usciamo. Rigenerarsi per rigenerare, per portare a sentirci tutti responsabili di tutti, per affermare il valore dei valori che la persona umana, trattarci come persona, io finito, è quello che dovremmo riuscire a fare meglio nella vita, la persona, e venirci incontro. E ciò vuol dire anche che la sinistra deve avere un cuore intelligente, perché una sinistra che intende essere autentico non è solo mente, ma anche ed emozioni. Noi non siamo solo mente e solo corpo. E da loro il mio cuore intelligente quando? Il mio cuore intelligente quando divido il mio pane, il mio tempo, la mia vita con gli altri. Siamo per tanti come il filo d'erba nella roccia. Vedete, i poveri hanno la capacità di lavorare contro muri, abissi, distanze, con mitezza e semplicità. Il presente è ancora tutta nella nostra disponibilità. Grazie. Grazie.